Il Covid-19 continua la sua azione con una risalita della curva pandemica registrata nella settimana dal 14 al 20 novembre. Secondo il bollettino regionale settimanale, infatti, si registra un incremento del più 7,65% di nuovi positivi, con un'incidenza di 225,74 casi per 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato si è registrato nelle province di Enna, Trapani e Catania, mentre la fascia di età maggiormente al rischio è sempre quella che va fra i 60 e gli 89 anni, con le nuove ospedalizzazioni che hanno registrato un incremento e oltre la metà dei pazienti è risultata non vaccinata. Per quanto riguarda invece la campagna vaccinale, si fa riferimento alla settimana dal 16 al 22 novembre. I bambini che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione sono il 21,36%, gli over 12 che hanno terminato il primo ciclo di vaccinazione sono l'89,51%, sono infine del 72,37% i vaccinati con terza dose. Dal 7 settembre il Ministero della Salute ha autorizzato l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la dose booster aggiuntiva agli over 60, alle persone di elevata fragilità e alle fasce di età over 12 in attesa della terza dose, includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. Le quarte dosi somministrate dal primo marzo sono state 180.777, delle quali 163.655 a soggetti over 60. Le quinte dosi attualmente somministrate sono 2.590.